ma dai! polpo di scoglio crudo e mangiato e ho preso anche gli alici per domani buono questo qua è talmente vivo e vedeto che come tu fiii vi dovi mara sappiamo che stava bene sai come se lo mangiava il polpo mi dava la mano a me poverina io a mia madre di questi non ho fatti mai mangiare perché veramente mi andavo a pescare io sott'acqua ora da quando mia madre è in fase di quella malattia che c'è a mia madre sta sotto alle mani del signore c'è una fè a ricca e mangiare davvero buono mio padre queste cose non tanto gli vanno in caldo però mia madre e mio fratele che sta giù mia sorella non tanto mio cognato pure ma io non ho mai perso l'amore della frutta di mare perché io la frutta di mare l'amo come amo voi ma dai la frutta di mare l'amo come amo anche mia madre mio padre mio fratello tutta la famiglia e non smetterò mai di amare la frutta di mare mai fin quando rimarrò in vita questi polpi che vedete qua